È andata bene, sicuramente le condizioni sono più favorevoli, siamo più abituati a giocare in questo modo. Sì, è andata bene, il risultato l'abbiamo portato a casa, sicuramente come sempre ci sono le cose da migliorare e siamo pronti a lavorare. Queste partite non tanto difficili, secondo te, sono un problema su un europeo? Assolutamente no, non penso che ci sono le partite facili, le squadre facili. Tutte le partite si devono affrontare nel modo migliore possibile, che ci servono sia per mantenere il nostro ritmo e continuare a lavorare. Vi divertite un sacco in questa squadra? Sì, tantissimo, spero che si vede anche da fuori e speriamo che abbiamo fatto vedere una bella pallavolo a questo spazio fantastico pubblico.